I referendum sono democrazia, i referendum fanno scegliere il popolo sovrano, il Parlamento è 30 anni che non riesce a provare una riforma alla giustizia degna di questo nome, adesso stiamo lavorando sulla riforma cartabile che fa alcuni passi in avanti, però la grande riforma la possono fare i cittadini italiani tramite referendum, separazione del carriere, taglio delle correnti in magistratura, responsabilità civile dei magistrati che se sbagliano pagano come tutti gli altri e soprattutto i tempi dei processi, non ci possono essere processi che vanno avanti 10-15 anni, è indegno di un paese civile. Non c'è il rischio della sovrapposizione con i lavori parlamentari?